I trentenni, generazione perduta, come li definì l'allora Presidente del Consiglio Monti, o risorsa. Il problema, tra crisi che attanaglia sempre di più, che è realtà spesso guardata con disinteresse dalle istituzioni, è nevralgico. E proprio a questo tema è dedicato quest'anno il rapporto sulla città, promosso dalla Fondazione Ambrosia Neume e curato da Rosangela Lodigiani. Oltre 254 pagine, a firma di numerosi sociologi ed esperti, per dire, attenzione, che sulla cosiddetta generazione X o appunto perduta si gioca il futuro. Basti pensare al peso numerico. 13 milioni di persone, comprese tra i 30 e i 44 anni, che rappresentano di fatto la metà della forza lavoro della nazione, ma che potrebbero fare molto di più. Infatti, solo i due terzi hanno un impiego. Le politiche dello Stato sono state contraddittorie e difficili e hanno obiettivamente trascurato questa generazione, che ha avuto la sfortuna di nascere con una cultura del Novecento e di trovarsi con la crisi del Duemila. Insomma, 30 quarantenni non più giovani, ma nemmeno considerati pienamente adulti, spesso ignorati dalla politica. Sospesi tra quelli più problematici che il rapporto chiami ripiegati, il 7,8 del campione, disposti oggi a qualsiasi lavoro. E poi gli scottati, il 20% inchiodati ai 1.000 euro al mese. I logorati, ben il 38,3%, precari di lunga data, ormai stanchi. Gli innovativi, solo l'1,7% che hanno saputo resistere e reinventarsi. Per tutti la speranza è di nuove chance. L'Expo deve essere utilizzato da Milano, dalla Lombardia, dal paese, perché è una grande operazione nazionale, per costruire una strategia. Due anni per rimontare anche una certa idea di sviluppo, utilizzarla per davvero, al di là del sito espositivo. Io dico lavoro per tutti, perché non si può dividere il lavoro a fasce. E per trovare lavoro per tutti, ho detto che la vera chiave è la competitività. E che chi dà lavoro sono le imprese e non si può pensare che il lavoro sia sotto l'albero dello Stato.